Torna a Sarconi la 33esima edizione della manifestazione in due giorni, interamente dedicata a sua maestà il fagiolo di Sarconi, prodotto locale dalle indubbie qualità agronomiche e commerciali. Il piccolo centro della Val d'Agri si veste a festa per onorare il suo prodotto di eccellenza, dando vita ad un evento che negli anni è riuscito ad attrarre, nelle due serate, circa 30.000 persone. Si tratta di un'importante vetrina per gli agricoltori locali e di un'occasione per riflettere sulle prospettive di mercato del prodotto. Storia, cultura, tradizione si fondono in una manifestazione molto attesa. 150 ragazzi sotto la tua guida della Proloco per organizzare questa sagra che ha bisogno di una macchina organizzativa imponente. Sì, è vero. Siamo in 150, io sono il capitano di questa grande formazione. È uno sforzo enorme di persone, però è una cosa stupenda. Infatti ne vale veramente la pena sia organizzare che partecipare. Il percorso sarà vario e in particolare che cosa ci sarà? Allora, qui troverete un menù tutto ispirato al fagiolo, dagli antipasti ai primi, ai secondi, marmellate, dolce e gelato. Quindi ce n'è veramente per tutti i gusti e per tutti i tipi. Una festa di socialità prima che una festa del gusto? Sì, una festa di socialità. Infatti lo scopo, quello che dico sempre ai miei ragazzi è quello di divertire prima di far divertire. Noi piace la sagra proprio per questo. E dalle 19.30 alle 20.30 la diretta della sagra sui canali di TRM Network 11, 111 e 602, oltre che in live web streaming sul sito trmtv.it.